Andiamoci in chiacchiere, a me le leggende non interessano, io voglio solo che poniate fine a questo scandalo. Ma come, signor prefetto? Se negheremo l'accesso a quella grotta, succederà il finimondo. Non importa, Giacomet, noi dobbiamo fermare questa spirale di ignoranza e superstizione. Qui è in gioco il prestigio della Francia e del nostro imperatore, sono stato chiaro? Voglio che quella grotta venga chiusa il più presto possibile. Costi quel che costi. Fermati, Bernadette, se avanzi ancora di un solo passo, sarò costretto ad arrestarti. Mi dispiace, Bernadette, ma abbiamo ricevuto l'ordine di impederti l'accesso alla grotta. Avanti, torna al paese senza fare storie. Vai, vai! Ti avevo avvertito, Bernadette, ora vieni con noi. Resta pure seduta, Bernadette. Come ti chiami? Ma voi sapete già il mio nome? Non ho tempo da perdere, mi serve per il verbale. Come ti chiami? Bernadette. Bernadette come? Subiru. Allora, Bernadette, tu vedi la Santa Vergine? Io non ho detto che ho visto la Santa Vergine. Ah, bene, quindi non hai visto nessuno. No, io ho visto qualcosa. Cosa? Che cosa hai visto? Ho visto qualcosa di bianco. Spiegati meglio, qualcosa o qualcuno. Quella cosa assomiglia a una giovane donna. E quella cosa? Non ti ha mai detto io sono la Santa Vergine? No, questo non me l'ho mai detto. Lasciate Lasciate! 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 Viene! Viene! Che branco di indieti. Sì. Comunque, torniamo a noi. Demi, questa signora che dici di vedere è vestita? Sì, certo, commissario. Indossa un lungo abito bianco, con una fascia celeste alla vita. Ha una rosa gialla su ogni piede e il rosario al braccio destro. E si presenta sempre così, ogni volta che la vedi? Sì, commissario. E com'è? È bella? Molto bella. Basta, mi stai prendendo in giro. Dimmi la verità, altrimenti ti mando in prigione. Io vi ho detto la verità. Fate di me quello che volete. Bernadette, ti avverto. Non farmi perdere la pazienza. Se confesse di esserti inventata tutta questa storia, vedrò di risolvere la faccenda con molta discrezione. E non se ne parlerà più. Ma se scopro che tu mi prendi in giro, per te saranno guai. Io ho detto la verità. Basta! Ne ho abbastanza di te per oggi. Gendarme, va a chiamare Subiru, il mugnaio, che venga a prendersi sua figlia. È giù, in piazza. Subito, signor commissario. Per ora ti rimando a casa dei tuoi genitori. Ma se la cosa si ripete ancora, sarò costretto ad arrestarti. Voi dovete fare il vostro dovere. Per ora ti rimando a casa dei tuoi genitori. Mi dispiace, signor commissario, avrei voluto impedirle di andare, ma non l'ho potuto. Vergine Santa, io non so cosa stia succedendo a Bernadette, ma tu conosci la mia fede. Se Dio ha dei progetti, fa che non scelga proprio noi. Non siamo che povera gente. Nessuno ci crederebbe. E questo ci darebbe altri guai oltre a quelli che abbiamo già. Bernadette è soltanto una bambina ingenua. Santa Vergine. Fa che Dio non posi il suo sguardo su di lei. Perdonami per quello che ho appena detto. Perdonami, ti prego. Durante il nostro viaggio a Vignemal, Claire, esausta, ci chiese di fare sosta. Ci fermammo in un paesino di cui non avevo mai sentito parlare. Lourdes. L'unico albergo decente che trovammo fu l'hotel de Pireneille. Ho sistemato tutto. Siete riuscito a far cambiare i cavalli? Sì. Ho detto a Claude di controllare la carrozza e di tenersi pronto a partire in qualsiasi momento. Come ti senti? Vorrei stendermi un po'. Ho mal di schiena. Concierge. Hai capito? Va, ne riparliamo più tardi. Buongiorno, signori. Buongiorno a voi. Sono il dottore Righiomé. Vorrei due camere, una per me e l'altra per i signori Lafontaine. Certamente. Quanto tempo pensate di fermarvi? Non lo sappiamo ancora. Uno o due giorni, il tempo di riprenderci dalla fatica del viaggio. Mademoiselle Lafontaine è molto stanca e si sente poco bene. Vi auguro un piacevole soggiorno. Facchino? Vieni, mia cara. Henry! Vi raggiungo più tardi. Carissimo Moro, come mai siete a Lourdes? Per curiosità, solo per curiosità. È la prima dote di uno scienziato, non è vero? Certo. Voglio capire meglio cosa sta succedendo in quella grotta. Quale grotta? Ma come? Non avete ancora sentito parlare della grotta di Massabian? No, sono appena arrivato, no? Anch'io. Ma a quanto pare stanno succedendo cose davvero incredibili. Incredibili, cosa? Ancora non lo so. Non lo so. Commissario Giacomet, cosa ci fate qui a quest'ora? Presto, avvertite il signor procuratore. È urgente. Volete entrare? No, grazie. Lo aspetto qui. È lei? Grazie, signor commissario. Buonasera, madame. Buonasera, signor procuratore. Mi hanno detto che volevate vedermi. Contessa de Tassigny. detacere i det���i. Grazie. Iscribete. Maaf! Maaf! Maaf!